E parliamo ora della più famosa dissidente al mondo, la leader birmana Aung San Suu Kyi che dopo oltre 20 anni è tornata in Gran Bretagna, una visita che è stata davvero commovente come ci racconta il corrispondente Stefano Tula. Giunta in Gran Bretagna dopo 24 anni e dopo aver scontato una lunghissima detenzione Aung San Suu Kyi che proprio Londra ha compiuto 67 anni è tornata ad Oxford, città che ha...